Musica Ragazzi siamo su Motain Combat 5 E oggi volevo usare il cacciatore di taglie E guardate che bella la mia veste ragazzi Tutta bella, dorata, sbrillosa Allora, cosa volevo provare oggi? Oggi volevo provare la EER15 E' un'arma praticamente ragazzi di livello 6 del cacciatore di taglie E allora andiamo a applicare innanzitutto un mirino qui sopra Perché ho provato già con il mirino suo originale Non mi piace tantissimo e andiamo ad applicarne uno noi Allora è già potenziata al massimo E volevo provarla in battaglia Ah tra l'altro ragazzi nell'uniforme sono andato a impostare una cosa Visto che nell'ultimo spacchettamento ho vinto un casino di nuclei Sono andato a impostare a livello massimo il bruciatore Cioè che quando i proiettili vengono Allora praticamente quando colpiscono i bersagli I proiettili incendiano i nemici con un effetto prolungato Inflingono 50 punti danno per 5 secondi Questa è una cosa vantaggiosa L'altro nucleo cosa sono andato a impostare? Questo è molto importante ragazzi Perché è invisibile a tutti i supporti militari Eccetto l'attacco aereo Quindi è molto importante perché è invisibile anche all'attacco EMP Cioè quell'attacco che ci rende il nostro radar Tutto sfumato che non riusciamo a vedere E non riusciamo a capire quando di fronte a noi abbiamo un nemico O un compagno di squadra Che molto spesso mi capitano gli attacchi EMP E molto spesso perdo di fronte a un nemico Perché chiaramente lui mi vede e io non lo vedo Comunque bando le ciance andiamo a farci una partita a squadre E vediamo cosa riusciamo a fare con quest'arma futuristica Siamo pronti? Allora siamo sui tetti E qui sono cacchi e da tanto che non mi capitava sui tetti Quindi andiamo a vedere cosa riusciamo a combinare con questa super arma Ragazzi non mi sono mai piaciute queste armi a dire la verità Però volevo anche provarla ogni tanto per vedere che cosa riusciamo a combinare Siamo pronti? La partita è già cominciata da un po' Siamo 4 a 14 Stiamo perdendo in questo momento Di fronte a noi abbiamo già visto un nemico Non riesco più a vederlo Al momento non si riesce a vedere Attenzione Controlliamo la situazione Controlliamo la situazione Eccoli qua ragazzi di fronte a noi Un nemico di fronte a noi Un nemico ma non riusciamo a metterlo al tappeto Per pochissimo E con il mescolatore guardate 0% di energia gli era rimasto Veramente mancava proprio una spinta E sarebbe caduto a terra senza energia Comunque noi non ci preoccupiamo ragazzi Perché siamo qui pronti a recuperare Babbo Natale vieni qui a terra Grazie molto gentile E qui sopra ci sparano Guardatelo qui sopra da dov'è che ci spara Guardatelo 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 E lo mettiamo al tappeto E lo mettiamo al tappeto Di fronte a noi Attenzione di fronte Vediamo se riusciamo a seccarlo di coltello Non ce la facciamo di coltello Ma lo riusciamo a seccare in altro modo Quest'altro invece lo saccagniamo immediatamente Ci mettiamo al riparo E stavo per andare al riparo ragazzi Non c'è stato tempo Di fuggire E sbombardiamo subito con un bel bombardiere innanzitutto Da dietro mi sparano Ma vediamo se riusciamo a regolare i conti Vediamo se riusciamo a ammazzarlo Questo vediamo Attenzione Attenzione Uccisione esplosiva Uccisione esplosiva ragazzi Ed ecco che cominciamo a sbombardare Mettiamo la mira Attenzione Vediamo se riusciamo a beccarlo Questo di fronte a noi No Mescolatore Sempre lui Siamo 14 a 30 Cerchiamo di recuperare subito Il tempo perduto Attenzione Controlliamo che c'è qualcuno Dei nostri compagni di squadra Lì a camperare Per controllare la situazione Vediamo se riusciamo a beccare qualcuno da qui ragazzi Vediamo se c'è qualcuno da qui ragazzi Attenzione Attenzione Rimaniamo qui in alto Per controllare la situazione Eccolo qui sotto Un nemico ragazzi Eccolo qui sotto Babbo Natale Solito Carichiamo l'arma Approfittiamone Ce n'è un altro Lì dentro Ce n'è un altro Li lanciamo una granata Lì vicino Ma purtroppo Non gliel'abbiamo tirata bene Ed è riuscito Ad averla franca Nel frattempo Buttiamo giù quest'altro Carichiamo l'arma Ci spostiamo subito Dalla zona X Perché stanno continuando a fare fuoco Stanno continuando a fare fuoco ragazzi Stanno continuando a fare fuoco Con un Hauser 45 MK7 Nascosto lì dentro Ci mette al tappeto Nel frattempo C'è un lieve recupero Da parte della nostra squadra Ecco qui di fronte a noi Abbiamo un nemico Lo mettiamo al tappeto Attenzione Attenzione Raccogliamo tutto quello che possiamo La partita termina così 20 a 38 Stavamo recuperando A dire la verità Ma non è bastata Non è bastata Per vincere la partita Non siamo neanche sul podio Vediamo che cosa abbiamo combinato Abbiamo fatto 9 uccisioni 5 morti Prima posizione Sulla nostra squadra E ci cucchiamo Un pochettino di punti Bene Che dire Passiamo direttamente Alla partita prossima Spero di tornare nuovamente Sui tetti Sempre in modalità A squadre E Aspettiamo L'inizio della nuova partita E questa volta Siamo su vantaggio Un'altra mappa Andremo a applicare Questa volta Come supporto militare Il veicolo di ricognizione Visto che molte volte Il nemico qui È spesso al riparo E quindi il bombardiere Sarebbe un po' uno spreco Anche se a volte Riusciamo a fare delle belle uccisioni Perché la partita si svolge All'aperto La maggior parte delle volte Secondo me In questa mappa È più le volte Che il bombardiere Viene sprecato Quindi andremo a utilizzare Il veicolo di ricognizione Molto spesso Per cercare Il nostro nemico Ecco il nostro compagno di squadra Che è qui È pronto a salutarci Attenzione Attenzione Siamo pronti Per lanciare Il veicolo di ricognizione Fra poco Eccolo lì sopra ragazzi Proviamo a sparare a distanza Ed eccola È uccisione Uccisione Elicottero di ricognizione Controlliamo la situazione Vediamo se qualcuno Sperando che non ce lo sparino subito Sperando che non ce lo tirano subito giù Andiamo subito a controllare In questa zona Che guardate qui Che sono imboscati Attenzione Attenzione L'hanno già seccati I nostri compagni di squadra Attenzione ragazzi Raccattiamo nel frattempo Le armi qui per terra Che ci servono I punti taglia Per sbloccare I nuovi supporti militari Carichiamo l'arma Nel frattempo Anche se è in una zona pericolosa Ci siamo messi a caricare l'arma In una zona molto pericolosa Torniamo qui sopra ragazzi E cerchiamo di svolgere La partita da questa posizione Vediamo se c'è qualcuno Dall'altro lato Che ha voglia di buttarsi Giù al tappeto Eccolo qui ragazzi Eccolo qui C'è un nemico Lì dietro C'è un nemico C'è un nemico Continuiamo a fare fuoco Vediamo se lo becchiamo Ce la facciamo Era un comando Se non sbaglio Mi è sembrato di vedere Uno scudo Nel frattempo Cosa facciamo Cacciamo Un altro Elicottero di ricognizione Per controllare Dove si trova il nemico Nel frattempo Oh dietro di noi Si trova il nemico Cazzo ragazzi Dietro di noi Non abbiamo fatto in tempo E' stato un bene Scacciare l'elicottero Di ricognizione Per accorgersi Dove si trovava il nemico Ma purtroppo Non abbiamo fatto in tempo Per correre ai ripari Ma non è un problema E' ancora attivo E sappiamo dove si trova Quindi cerchiamo Di buttarci sulla scalinata Velocemente Per vedere Se riusciamo a trovarlo E regolare i conti Eccoli qua Regoliamo i conti Ragazzi Di fronte a noi Il commando Il commando Dovevo sparargli Le gambe A dire la verità In questo caso Se spariamo alle gambe Riusciamo comunque A tirarlo giù Ma Non è stato abbastanza Vediamo se a distanza Così Lo vediamo ancora Lì in fondo Se riusciamo A fare qualcosa Ragazzi Vediamo che esce fuori Eccolo qua Eccolo qua C'è qualcuno lì C'è qualcuno Lì in fondo Continuiamo a fare fuoco Noi Ma nel frattempo Non riusciamo a vedere Bene Com'è la situazione E lanciamo un altro Elicottero di ricognizione Anche se già attivo Un supporto militare Al momento Non è possibile Quindi Allora Vediamo come fare Lanciamolo di nuovo Vediamo E già attivo Un altro supporto E ce lo comunica Nuovamente Eccolo qui Il commando Eccolo qui Il commando Eccolo qui Eccolo qui Continuiamo a fare fuoco Ragazzi Continuiamo a fare fuoco Contro il nemico Contro il nemico Uno lo tiriamo giù E il nostro commando E' ancora lì Che resiste Resiste Non riesce Non riusciamo a tirarlo giù Ragazzi Nel frattempo Lanciamo un altro Elicottero di ricognizione Vediamo se lui Si trova ancora Lassopra Si è ancora qui sopra Ragazzi Ancora qui sopra Vediamo se ce la facciamo Non ce la facciamo Ragazzi Non ce la facciamo Ok Qualcun altro L'ha tirato giù Guardatelo lì Come si è accucciato Il ragazzo Eccolo di fronte a noi Di fronte a noi Di fronte a noi Di fronte a noi Ragazzi Ce la facciamo Ce la facciamo Tirarlo giù Non ce la facciamo Ragazzi ma Gli stiamo tirando Un casino di proiettili Addosso Erano due contro uno Ma non riusciamo comunque Ad averla vinta Contro di lui Eccolo qua Vieni qua Vieni qua Bello Ando vai La granata che sta per arrivare Carichiamo l'arma E' il momento proprio sbagliato Perché di fronte a noi Abbiamo una Severance Che ci butta il tappeto Guardatelo come è bello cazzuto Ok Va bene Va bene Nessun problema Nessun problema Nessun problema Bello Nessun problema Ciao bello Al tappeto Comunque quest'arma Non è male E che a volte Avete notato anche A distanza ravvicinata Sparando tanti colpi Non li buttiamo giù Non li buttiamo giù I nostri nemici Purtroppo E op Mi ero distratto Per mettere l'elicottero Di riconizione Ragazzi Assistenza Nel frattempo Lo tiriamo giù Siamo 19 17 Siamo veramente Siamo veramente In vantaggio di pochissimo Ragazzi Siamo in vantaggio di poco Ma veramente poco Eccolo qua Eccolo qua Eccolo qua Eccolo qua Eccolo qua Bello Ma anche con lo scudo Le granate Sono cazzute Attenzione Ci lanciano una granata Nel frattempo Riusciamo a sopravvivere Carichiamo l'arma Profittiamone per ricaricarla Facciamo il giro Dall'altro lato ragazzi Vediamo se riusciamo A recuperare Ok Elicottero di riconizione Nel frattempo Lo lanciamo Oh Ci sparano Eh di fronte Mi ero distratto Siamo 28 A 25 Siamo veramente Abbastanza equilibrati Contro la squadra Avversaria Sono veramente Cazzuti Ci sparano Ci sparano Ci sparano Ci sparano Continuiamo a fare fuoco Oh PR39 Al meglio su di noi Ma il nostro compagno di squadra Regole conti Siamo 29 29 Siamo in pareggio In questo momento E vediamo Se riusciamo a recuperare Ragazzi E cercare di Vincerla Noi questa partita Nel frattempo Cambiamo arma Mettiamo un attimo La pistola ragazzi Giusto così Per Vieni qua Oh Granata 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 Sotto i nostri piedi Per fortuna Siamo riusciti Ad avere La meglio Attenzione 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 Nel frattempo Ci cucchiamo le armi Qui per terra Che ci servono Vediamo se qualcuno Ha deciso di arrivare In questa zona Attenzione Stanno salendo Ragazzi Stanno salendo Stanno salendo Stanno salendo Stanno salendo Assistenza Assistenza Uccisione Con la pistola Attenzione Ragazzi Attenzione Che qualcuno Sta per arrivare Qui sopra Nel frattempo Noi Questo è uno dei miei Questo è uno dei miei Carica l'arma Carica l'arma Elicottero di ricognizione Nuovamente Lo so ragazzi L'elicottero di ricognizione Lo sto Usando spesso Ma lo sto usando Per un motivo Per dare supporto Alla mia squadra Anche se Non giova Tantissimo A noi In alcuni casi L'elicottero di ricognizione Quando giochiamo a squadra E' comodo Anche per i nostri Compagni di squadra Che servirà Per riuscire A Terzo posto Nel frattempo Per riuscire Almeno A vedere dove si trova Il nemico E così Da riuscire A vincere Come squadra E niente Che dire Doppio premio 20 crediti Terminiamo qui La partitozza Ragazzi E vediamo Che mi sa Che abbiamo Sbloccato Qualcosina Qualche premio Forse l'abbiamo Sbloccato Penso Comunque Quest'arma Non è male Non è male Non è proprio Il massimo In alcuni casi Come avete notato Che purtroppo A volte Anche a distanza Ravvicinata Faccia a faccia Dopo che cominciamo Prima noi A sparare Come avete notato In questa partita Succede che il nemico Ha la meglio su di noi Perché magari Ha un'arma più cazzuta Però Comunque Non è per niente male Io Sinceramente Piuttosto che questa Dei due Preferisco La Bosch 4 Cosa che farò Probabilmente Nella prossima partita Non lo so Adesso vedremo Comunque Che dire Grazie a tutti A vostro ascolto Mi raccomando Spoliciate ragazzi Se vi è piaciuto il video E ci vediamo Al prossimo appuntamento Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti